Io ho 24 anni e Angelo Ligio ha smesso di fare sindaco praticamente quando sono nata, ma molti dei giovani utilizzano ancora oggi i servizi che lui ci ha lasciato, ad esempio la biblioteca, l'informa giovani, i servizi per il poliambulatorio e anche il boschetto, non dimentichiamocelo il boschetto. Il presente ha fatto tanto per noi investendo nell'unica libreria che c'è in città, l'unica libreria nel 2013 a Michelino, fino al 2013 non abbiamo avuto una libreria a Michelino. Io sono convinta che se l'ha fatto in passato, l'ha fatto nel presente, continuerà a farlo in futuro e investire su noi giovani, perché noi siamo il futuro e credo che con Angelo Ligio questo si possa realizzare, perché lui è un sindaco, spero che diventerà il futuro sindaco, perché lui fa quello che dice, ne sono convinta e spero che anche altri giovani della mia età lo sostengano. Grazie.